Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del Tg di TV Siti. In apertura siamo a Torre del Greco, questa mattina conferenza stampa di presentazione a Palazzo Baronale dei Servizi di Orientamento al Lavoro e Auto Imprenditorialità di Stecca. Poi l'emergenza sanitaria, dati nuovamente altalenanti nei comuni del Vesuviano tra nuovi casi e nuove guarigioni. Restiamo in tema, arriva da Monsignor Domenico Battaglia un appello a sacerdoti e diaconi ad effettuare il tampone prima di celebrare la Santa Missa. in vista della commemorazione dei difunti, nuovo dispositivo di viabilità nelle strade interessate per garantire un afflusso in sicurezza. Anche Ercolano aderisce alla 18esima giornata nazionale del trekking urbano, un percorso alla riscoperta del territorio e delle ville vesuviane. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Focus sui percorsi di orientamento al lavoro e autoimprenditorialità. Questa mattina nella sala consigliare di Palazzo Baronale la presentazione dei servizi offerti dall'incubatore di imprese Stecca che ha sede nell'area dei Molini Meridionali Marzoli. Un'iniziativa finalizzata a consolidare la sinergia tra l'incubatore e l'amministrazione comunale e favorire la diffusione dei servizi a beneficio della collettività in materia di formazione, accompagnamento al lavoro, imprenditorialità e supporto alle imprese. Siamo felici di condividere oggi questa iniziativa con il Comune Editore del Greco che ha sposato la finalità dell'iniziativa, cioè quella di diffondere quelle che sono le opportunità e gli strumenti a beneficio della collettività in materia di formazione, accompagnamento alla creazione di impresa e orientamento al lavoro. Come Stecca noi abbiamo strutturato un modello di lavoro che ci permette oggi di erogare servizi gratuiti agli aspiranti imprenditori, a chi è in cerca di lavoro, a chi è in cerca di un corso di formazione quindi per maturare nuove competenze o maturare competenze specialistiche oppure chi è nelle condizioni di intraprendereci, quindi accompagniamo chi ha un'idea progettuale a trasformarla in un progetto imprenditoriale. In questo momento quali sono le esigenze del mercato? Noi abbiamo una forte caratterizzazione territoriale e il punto di forza del nostro modello di lavoro sta proprio nel fatto che abbiamo una continua interlocuzione con le aziende del territorio per cui la nostra proposta di formazione o di nuovi servizi e nuove imprese cerca di essere effettivamente rispondente a quelli che sono i bisogni delle aziende del territorio. Oggi con due strumenti in più che sono l'accreditamento presso Invitalia per la misura resta al sud e l'accreditamento presso l'ente nazionale per il microcredito per erogare corsi di formazione per chi vuole cominciare un percorso imprenditoriale. Quindi il programma si chiama Yes Startup e prepara figure manageriali e imprenditoriali per chi vuole accedere al programma di investimento Self Employment. Qual è il ruolo del Comune nel sostenere queste iniziative e queste attività? Determinate cose non solo devono essere promosse dall'amministrazione per dare un'ulteriore incentivazione ma l'amministrazione ha l'obbligo, la responsabilità di creare i presupposti giusti affinché il territorio possa essere ricettivo di nuove attività, possa migliorare quelle esistenti, possa creare tutte le condizioni che in qualche modo danno la possibilità che il commercio che viene fuori da un periodo piuttosto difficoltoso possa avere migliori riscontri. Ecco, infatti si parla di percorsi di orientamento al lavoro in un momento storico molto complesso. Dobbiamo dire che consentiamo di aprire le nuove attività, che creiamo i presupposti affinché che possano essere durevoli nel tempo e soprattutto che siano affidate a persone che abbiano la giusta formazione, la giusta capacità imprenditoriale, la giusta modalità di rapportarsi anche con quella che è poi la convittenza finale, la clientela che è di tutti i giorni. Quali sono le finalità di questi progetti? La finalità di questi progetti è accompagnare giovani e donne inattive, disoccupate lunga durata, quindi persone con difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro, verso l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, quindi una forma di accesso al mercato del lavoro attraverso l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, quindi un'azione congiunta sotto la regia di Ampa, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, l'Enternazionale del Mercocredito e Invitalia e si dà la possibilità a questi target, quindi giovani, nitte, disoccupate di lunga durata e donne inattive, di poter accedere con un percorso prima di accompagnamento di 80 ore e poi con una linea di finanza pubblica a creare imprese, a fare imprese, quindi a trasformare una propria idea in attività imprenditoriale. I nostri percorsi di accompagnamento che hanno continuato a dare i loro esiti anche durante il lockdown, nel periodo di emergenza Covid, grazie alla realizzazione di una piattaforma nazionale attraverso la quale abbiamo continuato a derogare formazione anche nei periodi bui dell'emergenza Covid, dà la possibilità a persone comunque di entrare nel mercato del lavoro come piccoli imprenditori. Noi veniamo qui in qualità di soggetto gestore di uno strumento agevolativo, self-employment e il resto al sud, dove Torre del Greco, il comune di Torre del Greco, grazie all'incubatore Stecca, ci permette di accogliere una domanda di progetti qualificata grazie ai percorsi di accompagnamento che saranno inglobati all'interno dell'incubatore. I nostri progetti sono di microimprese, quindi piccole imprenditorialità e speriamo che il contributo dell'incubatore e del comune quindi possano arrivare sempre più progettualità qualificate, intendiamo qualificate progettualità che poi hanno effettivamente un mercato, sono sul territorio e da parte di imprenditori che vengono effettivamente preparati all'approccio aziendale imprenditoriale. Non chiediamo progettualità che abbiano un grado di innovatività importante, ma che siano portate avanti da soggetti che siano consapevoli di cosa vuol dire fare impresa, di cosa vuol dire qual è il rischio imprenditoriale e quelle che sono le dinamiche che devono essere associate allo sviluppo appunto di un'attività imprenditoriale. Continuano ad aumentare i casi nei comuni del Vesuviano. A Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino nella giornata di ieri, certificati 5 nuovi casi di positività al Covid-19 e 4 nuove guarigioni. Al momento dunque il quadro è il seguente. Totale ospedalizzati 11, totale in isolamento domiciliare 116, totale guariti dal Covid 6.798, totale decessi 176. A Torre Annunziata si registrano invece sei nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 92 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 6,52%. Al contempo si registra una guarigione. Sono 102 cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate fino ad ora sono 52.045. Sono 4.721 le persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 4.525 guariti, 94 decedute. Secondo infine il bollettino dell'unità di crisi della regione Campania, nella giornata di ieri registrati 393 positivi a fronte di 29.429 test effettuati, 3 i decessi. Secondo invece il report dei posti letto su base regionale, al momento ci sono 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, 17 occupati, 3.160 posti letto di degenza disponibili. 193 quelli occupati. Fate il tampone prima di celebrare la Santa Messa. L'appello a sacerdoti e diaconi che non vogliono o non possono vaccinarsi arriva attraverso una lettra da Monsignor Domenico Battaglia. L'Arcivescovo di Napoli invita sacerdoti, diaconi ed operatori pastorali della diocesi a vaccinarsi, adottando comportamenti responsabili e generosi, e richiama la nota della Conferenza Episcopale Italiana del 1 ottobre, che definisce la vaccinazione anti-covid un atto di amore verso il prossimo. Tuttavia, scrive a battaglia in una lettera, alcune persone, tra cui qualche ministro ordinato e qualche operatore pastorale, mi hanno manifestato la loro impossibilità fisica o morale a sottoporsi alla vaccinazione. Tenuto conto di tutto ciò, prosegue l'Arcivescovo di Napoli, chiedo a tutti coloro che intendono svolgere il loro servizio a favore del popolo di Dio di sottoporsi al tampone rino-faringeo, secondo le disposizioni delle autorità sanitarie. In vista della commemorazione dei defunti, come ogni anno il Comune Editore del Greco ha provveduto al nuovo temporaneo dispositivo per regolamentare la viabilità in zona, per far fronte al notevole flusso veicolare e pedonale che si registra come di consueto nel punto di ogni santi. Firmata in queste ore l'ordinanza dal dirigente Salvatore Visone, al fine di consentire l'afflusso in sicurezza nelle strade interessate. In particolare per via San Giuseppe alle Paludi e per via del Cimitero, da via nazionale all'ingresso del Cimitero, istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di circolazione veicolare dal 29 ottobre al 2 novembre dalle 7 alle 17. In deroga quanto previsto da tale dispositivo è consentito il transito dei veicoli in uso ai residenti e alle persone diversamente abili esclusivamente nella fascia oraria dalle 14 alle 15. È consentito inoltre il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza, ai mezzi delle forze di polizia e a quelli muniti di speciale autorizzazione. Per il tempo in cui sarà in vigore tale ordinanza, sono sospesi tutti gli stali di qualsiasi tipologia istituiti per la sosta di autoveicoli e motoveicoli. Ha sparsa lungo la strada del Miglio d'Oro, con le sue ville vesuviane e l'antica città. Anche il Colano aderisce domenica 31 ottobre alla 18esima giornata nazionale del trekking urbano, che quest'anno ha come titolo Una sana follia alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi. L'iniziativa, che coinvolge 76 comuni italiani, è un percorso adatto a tutte le età, a passolento per scoprire strade, borghi e circuiti meno noti ma altrettanto affascinanti dal punto di vista artistico e culturale. E così il Colano propone un itinerario lungo la storia alla scoperta del Miglio d'Oro. Il tour prenderà il via alle 10.30 dal parco inferiore di Villa Favorita, poi si proseguirà lungo il Miglio d'Oro dove spicca Villa Campolieto tra le più suggestive delle ville vesuviane. A pochi passi dagli scavi archeologici si potrà visitare il MAV, Centro di Cultura e di Tecnologia. L'itinerario si conclude all'entrata storica del parco archeologico, dove è possibile ammirare dall'alto l'incanto della città antica cristallizzata nel tempo dall'eluzione del Vesuvio. Crediamo in questo modo di allargare ancora di più l'offerta turistica del territorio, implementando anche un percorso alla riscoperta della città da fare a piedi scoprendo altre scorci e bellezze della nostra Ercolano, spiega il sindaco Ciro Bonaiuto. E domenica per l'occasione le guide dell'associazione L'Emozione della Bellezza accompagneranno gratis i partecipanti. Per prendere parte alla visita guidata gratuita è obbligatorio prenotare inviando una mail a turistico-comune.ercolano.na.it ed essere muniti di Green Pass. Questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'e-mail all'indirizzo redazionechioccioladvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.